Un altro per entrare in una palampa, vai Edo! Greta Zuccarello! Vai Greta! Matilde Brandi! Vai Sejanes! Vai Tente! Joe Bastianich! Francesca Vergesio, la Miss Italia in carica! Eccola qua! Artur Dainese! Altra aspirante libera! Luce Caponegro! Marina Suma! Arasenol! Valentina Trezzali! Samo e Peron! Cenerentola! Eh! Ho! L 71! Grazie a tutti.